Sono Maria Antonietta, ho 23 anni, lavoro part-time. Maria Antonietta è di carattere molto dolce, è molto responsabile, è preoccupata. Si è calmata un pochino, però è stata la più ribelle della famiglia. A scuola ha fatto un po' dei capricci. Ho fatto la sciocchezza di lasciare il liceo al quarto anno, cosa che qualche anno fa mi ha fatto stare proprio male. Il mio sogno è di aprire un negozio mio. Elvira, non le trovo, dove sono? Mi chiamo Elvira, ho 20 anni e vivo a fretta minore, per fortuna ancora con mamma e papà, perché sono un poco sfaticata. Mi sono appena diplomata, liceo scientifico e stavo pensando un po' cosa fare, perché il lavoro non si trova e stavo pensando un po' di fare l'università. Mi piacerebbe fare la designer pubblicitaria. Elvira sembra più tranquilla, però a lei piace molto fare la star. No, la devo mettere io. No, Elvira, la devo mettere io. Ma a me piace fare la bella vita, ma purtroppo qua, in questa famiglia, non la puoi fare. Elvira è un po' più cascogna, un po' più... lei è un po' la più che fa un po' più chiasse in casa. Io sono tutta. Parlo sempre, mi piace parlare sempre, stare al centro dell'attenzione. Mi chiamo Raffaella, ho 14 anni e sono una sorella minore. Raffaella ha 15 anni, è la più piccola, è molto dolce, frequenta il primo anno di scienze umane. Lei dice, e lo spero, che vorrebbe fare la criminologa da grande. Raffaella, tu dici che vuoi fare la criminologa? Quindi se mamma uccide lì, la mia famiglia. E' l'ultima, la più piccolina, ma che adesso mi sembra la più grande, che è molto gioioso, molto bella, ha dei caratteri eccezionali. Poi almeno passo le mie giornate stando comunque al cellulare, un po' al computer e poi comunque cerco di fare attività sportiva. La mia famiglia in un'unica parola, originale, molto unica, sociale e comica. Grazie. 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 Grazie.